al basket e all'ho che ancora oggi si diverte a giocare a pallacanestro giocando con una squadra di terza divisione ha abbandonato la scuola a 16 anni proprio per dedicarsi anima e corpo all'atletica leggera e diventare il migliore nel salto in alto c'è finalmente riuscito anche all'aperto saltando 2 metri e 42 centimetri questo è il salto mondiale di Patrick Sjöberg, l'atleta svedese fidiamo così la nostra telecronaca ringraziando per il montaggio Gianni De Propris e i collaboratori dello studio 12 di Roma La ultima ora della informazione deportiva è stata marcata per questo spettacolare salto del sueco Sjöberg in Estocolmo dove ha battito il record mondial di salto d'altura 2.42 potranno vedere in unos instantes il spettacolare salto del joven sueco In la misma riunione di Estocolmo, José Luis González ha vencido in la carrera di 3.000 metri Il sueco Patrick Sjöberg, di 22 anni, ha battito il record del mondo di salto d'altura nel transcurso della riunione atletica internacional di Estocolmo puntuale per il Grand Prix che si ha disputato questa tarda nel antico Stadio Olímpico della capital sueca Sjöberg, che tiene il record del mondo in pista cubierta con 2,41 m Sjöberg, che ha fatto un salto di 2,42 m Il nostro compagno è un salto di alto Il ragazzo sembra davvero in alto ma è vero che il salto in alto per il si deve agire che sul non si può che per il stesso A l'inversa dei perchisti che hanno beneficiato in più queste ultime anni delle avancate tecnologiche del materiale Questo centimètre corresponde quindi solo a l'améliorazione del potenziale tecniche e fisica di un uomo. E lui è stato grande, a 18 anni, ancora junior, il raggiungo già 2,33 m. Il resta a peffinare, a trovare le meilleure marco, e è paradoxalmente sotto la pluia, per un tempo frai, che Jobberg è passato. E come se centimètre non sufficiente a satisfare son appiettio, il ha detto che il mio buto adesso è a 2,45 m. Il è suédo e è stato, a Stockholm a fatto il miglior sauteur in alto su mondo, 2,42 m a suo terzo segno, che un centimè di meglio che l'ancien record del Sovietti Igor Paklin. Patrik Jobberg ha già già attrauto l'iverultato il record del mondo in sala con 2,41 m. E con questo nuovo record del mondo in pieno, è che ora diventia il maestro absolu della specialità. Sioberg è il prototipo del sottore moderno, grande e lancato, tecnicamente molto sicuro, ha visto il suo giovane, una marge di progresso molto importante. Il è così, senza dubbio, l'uomo che va a ottenere la voce verso le 2,50 m in alto. Sioberg, che anche ha il ricord del mondo in pista cubierta con 2,41 m, dal 1 di febrero di questo anno, ha realizzato un salto di 2,42 m, superando in un centimetro il ricord che, dal 4 di settembre di 1985, poseia il soviético Igor Paklin. Sioberg, 22 anni di edad, su campeone olimpico in Los Angeles, ha realizzato, hasta il momento, 13 tentativi sulle alti, di 2,42 m, fino a che, ante più di 20.000 spectatori, nel Stadio Olimpico di Stocolmo, logrò superare il listone e fijare un nuovo ricord del mondo. Il Stadio Olimpico di Stocolmo è il ricordo sportivo che ha stato un scenario di maggior numero di ricord mondiali, già che sono stati 67 i che si hanno battuto a tutti.